Il banchetto funebre è cancellato. Potete andare a casa. Cosa? Che razza di famiglia. Devi andare alla stazione di Lichtenberg. Il tuo nonno sta partendo per l'Ucraina. Nonno, non puoi partire. È chiaro? A quanto pare sì. Oh, cazzo. Stiamo andando in Valacchia e tu dici bene. Almeno non è da solo. Perché andate a Kiev? Domandalo a mio nonno. Sto cercando una persona. Deve avere a che fare con la guerra. Non ne hai mai parlato? Tanto non capiresti. Una che nella vita non ha mai concluso nulla. E tu cos'hai concluso, eh? Tu odi le persone che invece dovresti amare. Io sono ucraino, ma sono anche russo. Si può essere entrambe le cose. Molti ucraini non sarebbero d'accordo. Di dove riesco tutti a salto? Mi ha detto che devo scegliere da che parte stare. Probabilmente esiste un fascicolo su di lei. Chiedi di cercare anche il fascicolo su mio nonno. Non devi farlo. Chiedi. Dio vuole soltanto ritrovare una donna che ha amato. Nonno. Sto solo cercando di conoscerti. Voglio solo sapere perché siamo, chi siamo. Ciao. Ciao. Grazie per la visione!